Obiettivo per l'Avezzano lasciarsi alle spalle il deludente pareggio di Casalbordino e riprendere la rincorsa alla vetta della classifica contro la Cenerentola Pontevomano ancora a quota 0 dopo 6 giornate di campionato. Torti conferma 9 undicesimi della formazione di domenica scorsa con le novità di Girolamo tra i pali e Laguzzi al posto dell'infortunato Catalli. Nel Pontevomano Piccioni lancia l'ultimo arrivato Valentino Cernaz nel tridente leggero con Polisena e Angelozzi. L'avvio lascia presagire una passeggiata di salute per l'Avezzano che dopo 28 secondi passa in vantaggio con la galoppata di Dos Santos che deposita all'angolino di Spinozzi. Nonno gol per il brasiliano sempre più al comando della classifica marcatori. Avvio a sprombattuto dei biancoverdi certificato anche dal tentativo di Bisegna al quinto che col destro fa fischiare la traversa. Al sesto irrompe sulla scena il Pontevomano con l'azione che porta al tiro di Leonzi, pallone che sorvola la porta di Girolamo. L'Avezzano non morde la partita e il Pontevomano resta pericolosamente a galla. I biancoverdi si fanno pericolosi due volte nel giro di due minuti, prima con Bisegna che arma il mancino di poco a lato e poi con un'azione convulsa risolta dalla difesa ospite dopo i tentativi di Dos Santos e Laguzzi. Al 28esimo altro break dei terramani con il triangolo tra Porrini e Cernaz con la conclusione del numero 4 che non inquadra lo specchio. Al tramonto del primo tempo torna in avanti l'Avezzano, ci prova prima pendenza che scarica e trova i pugni di Spinozzi. Poi è il turno di Laguzzi servito da Dos Santos che salta ancora all'estremo terramano. Ritmi soporiferi in avvio di ripresa, Torti cambia Laguzzi con Selle mentre nel Pontevomano Fazio prende il posto dell'infortunato di Pietrantonio. Il primo squillo arriva soltanto al diciassettesimo con il cross di pendenza e la smanacciata di Spinozzi ad anticipare il tapin di Selle. Segue un'altra girandola di cambi fino al minuto numero 35 quando il neo entrato Blanco al posto di un'impalpabile pendenza ribadisce in rete l'imbucata di Dos Santos. Terzo gol in campionato per l'Argentino e tre punti in cassaforte. Nel finale le squadre si allungano e l'Avezzano ha la chance per il 3-0 in contropiede con Di Paolo che trova la respinta alla garella di Spinozzi. Finisce con il quinto successo dell'Avezzano che resta in scia alla Virtus Cupello per il Pontevomano e ancora notte fonda. Mister siete stati bravi a sbloccarla dopo 28 secondi, poi nel primo tempo e anche nel secondo tempo forse vi è mancato un po' di ritmo, un po' di cattiveria. Oggi era importante vincere, dovevamo reagire al parigi di domenica scorsa e l'abbiamo fatto. Quindi io sono soddisfatto, è ovvio che bisogna fare meglio, però i ragazzi erano contratti e quindi va bene così. Mister avete preso gol a freddo subito nel primo tempo, poi siete stati bravi a rimanere in partita nel primo tempo, anche in larghi tratti del secondo tempo. Non si è vista questa differenza di classifica per larghi tratti della gara? Io la squadra non posso rimproverare nulla, è normale che se viene da Vezzano e dopo 25 secondi prendi gol è dura, però abbiamo dei limiti palesi, ogni domenica prendiamo gol nei primi minuti, quindi non è una casualità ma è un limite. Sotto il punto di vista dell'impegno, dell'orgoglio, della voglia questi ragazzi ci mettono l'anima, poi è normale che la qualità dei giocatori fa la differenza. Parate del nostro portiere io non ne ho viste, stiamo parlando di una squadra che ha dei cambi fantastici, eppure per larghi tratti li abbiamo messi in difficoltà con quello che potevamo fare. Però ripeto, partire da 1-0 ad Avezzano con una squadra così forte diventa difficile, però ripeto, non era questa la partita dove dovevamo far punti, ma sicuramente non l'abbiamo fatta nelle altre partite, quindi per noi ogni partita deve essere quella fondamentale, come una finale. Ripeto, abbiamo dei limiti, purtroppo speriamo di colmarli il prima possibile.